I Carabinieri. Tenere viva e vitale la memoria della storia europea è l'obiettivo del progetto Adotta un filosofo rivolto alle scuole superiori della regione organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival. Ce ne parla Edoardo Sant'Elia. Conoscere l'Europa e le sue istituzioni attraverso l'elaborazione critica del pensiero, anche adottando un filosofo. Recita così il progetto di formazione presentato presso l'Aula De Santis della regione Campania, la presenza del governatore Vincenzo De Luca, che si propone con un ciclo di lezioni affidate a più di 20 filosofi, di coinvolgere gli studenti degli istituti superiori, statali e paritari. Un progetto a cura di Massimo Dinolfi, organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival e sostenuto dalla regione. Le filosofie Europa hanno un legame indissolubile. Parole decisive per la nostra storia come universalità, responsabilità, democrazie nascono nell'alveo della filosofia. Qual è il senso, il nocciolo di questa idea? Quello di aiutare i ragazzi a comprendere che cos'è l'Europa e che cos'è la democrazia che trova in Europa la sua massima cultura. La filosofia, le arti, le scienze sono connaturate a quello che è il linguaggio teatrale. I più grandi dialoghi di Platone sono teatro interiore. L'iniziativa è destinata ad un massimo di 60 scuole e a conclusione del ciclo di incontri i ragazzi saranno chiamati a produrre un elaborato, giudicato poi da una commissione composta dagli stessi filosofi, ai quali lasciamo l'ultima parola. Io credo che la filosofia, prima ancora di essere un sapere specifico, è un abito di vita. Io mi sentirei di dire che la funzione della filosofia è proprio quella di non essere utile, nel senso mercantile, a qualche cosa. Un incitamento concreto a non abbandonare la ricerca di se stessi, che non significa la ricerca di sé separati dal mondo, ma la ricerca del mondo che non si può fare se non attraverso di sé.